Uno dei più grandi personaggi della pizza è Enrico Porzio, che abbiamo l'onore di accogliere qui in una delle nostre sedi di Palermo, nel cuore di Palermo. Siamo proprio a due passi dall'università, siamo all'interno di questa magnifica struttura della congregazione delle Suore Boccona del Povero, dove abbiamo tanti ragazzi che frequentano i percorsi di operatore delle produzioni alimentari, operatore della ristorazione e altri mestieri. L'obiettivo è quello della Scuola dei Mestieri, che dà la possibilità a tanti ragazzi veramente con tanto sacrificio, ma con tanta determinazione, di frequentare un percorso che li porti alla qualifica professionale dopo tre anni, al diploma tecnico dopo quattro anni e alla possibilità di conoscere. Questo è una chicca veramente, quindi avere personaggi così illustri e importanti per dare la possibilità ai ragazzi di acquisire abilità e competenze, quindi vedere un personaggio famoso all'opera, quindi non solo dal punto di vista professionale, ma anche un personaggio che si muove molto bene sui social. I nostri laboratori, che sono magnifici, dotati di tutte le attrezzature possibili e immaginabili, e soprattutto un'organizzazione umana e scolastica che mira alla crescita dei loro figli. È una delle più belle che abbia mai fatto, perché farlo per tanti giovani, giovanissimi, quindi mi rivedo un po' l'enrico piccolo, l'enrico giovane, 15enne, 16enne, 17enne, quindi poi sapere che ci sono tanti giovani che vogliono fare questo mestiere, che non dimentichiamo, comunque è molto sacrificato, a me fa veramente enorme piacere. Abbiamo dato una dimostrazione di un impasto da poter fare a casa, un impasto ad alta idratazione, quindi possono sperimentarlo tranquillamente nelle proprie abitazioni e poi un condimento speciale, diverso, diciamo, dalla solita manghete, con pomodoro giallo, pomodoro russo, un basilico e un formaggio verde. Replicate, ma non imitate, perché pure un tv sull'unapola sa da sapere fare. Ciao.